può portare i suoi frutti, perché ieri, tanto per riassumere, quello che anche volevamo al centro, l'avevamo messo l'uomo come parte, ne teniamo anche oggi. Che la mia innocenza mi avrebbe rinventicata. Sul palco scenico mondiale io non ero un'imputata, innocente fino a prova contraria. Ma ha scatenato l'immaginazione della gente. Parlava alle paure. Insieme ai miei amici dagli Innocence Project non appartengo qui. Alcuni hanno persino a starci male, per un'ora. Grazie ai nostri amici e colleghi americani, a trattare 7000. Ricci di uomini, Foxy Noxy. Hanno... L'ho pregato di salvarmi, anche se... ...